Il Comune di Capaccio Pesso invierà nei prossimi giorni una lettera ai contribuenti distratti affinché possano provvedere a regolarizzare la loro posizione in merito al pagamento della tassa sui rifiuti. Da un controllo incrociato con i dati dell'anagrafe sono risultati infalti molti contribuenti non in regola con il pagamento della Tari. L'ente offrirà a tali cittadini l'opportunità di versamenti con sanzioni ridotte. L'assessore al bilancio Donatella Raeli conferma che nei prossimi giorni partiranno dalla Casa Comunale delle comunicazioni ai cittadini non in regola con il versamento della tassa sui rifiuti affinché possano sistemare la loro posizione. Per fare ciò daremo anche la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso. Da qui il nostro invito a mettere in regola nei termini di 10 giorni alla fine di evitare l'aggrave di ulteriori sanzioni e interessi.